Una scossa di terremoto ha colpito ieri, domenica 2 aprile, l'Austria al confine con l'Italia. Sisma, stando a quanto rilevato dagli NGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato registrato alle 22.15 e la magnitudo è stata di 3.6. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche in Friuli, Venezia e Giulia e in special modo nella provincia di Udine. Nessun danno a cose o persone.